3, 2, 1, go, buongiorno ragazzi e ragazzi oggi siamo ritornati qui con un nuovissimo vlog questo vlog si tratta di un vlog molto bello perché è un vlog di carnevale in cui noi oggi andiamo a Capua già stiamo a Capua stiamo entrando guardate bellissimo da qua e poi stasera alle 5 passano i carri e tipo è bellissimo abbiamo buttato una bomboletta tipo di e oggi dobbiamo comprare le stelle filanti i gocci e i coriandoli cosa? qua proprio qua tu mi avevi ripreso con il vestito di la canele proprio in quella zona e quindi ora entriamo arriviamo nella zona più bella e registriamo e quindi la canele è un'altra cosa Grazie a tutti. 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 Allora ragazzi, stiamo mangiando, abbiamo mangiato e ora facciamo una cattella. Cosa facciamo? No, veramente sto mangiando, le castagne. Cosa è russo? Le castagne, sì. E ora dove stiamo andando? Oh, camminiamo, parteggiamo nella poca. No, parteggiamo. E prima ragazzi stavamo come le formiche perché c'era il carro che camminava e tutta la banda e in pratica tutte le persone che seguivano e poi se ne stavano andando nella piaccia che spettano. E allora abbiamo superato. Questo non si calda a rossa? Buonissime. Buonissime. E' buonissime. E' buonissime. E' buonissime. Buonissime. Ragazzi, allora abbiamo finito. Aspetate, Giulia faccia la lingua. Guardate Giulia, si è fatta la lingua blu. Perché in pratica si è preso il coso blu. Il zucchero filato blu. Io sto con lo sciorpone. E quindi, allora, abbiamo finito. C'era un solo carro, però è stato comunque bello. Sulle giostre non siamo andati perché abbiamo mangiato subito, molto prima, la trippa. Poi subito dopo c'erano le giostre. E quindi non siamo andati sul saltapistello, ma ci riandremo, non mi preoccupate. Poi, siamo anche andati. Abbiamo anche fatto il gioco dei cavalli. E siamo arrivati i terzi. E quindi... Ora, sì, ragazzi, oddio, hanno chiuso il cancello. Oddio. Vabbè, si apre. Vabbè. Ok. Avevano chiuso dove abbiamo parcheggiato la macchina. Qua siamo. Ok. A posto. Ok, ragazzi. A posto. Entriamo. Giulia. Vieni. Ok. Ok. Grazie. Vai. E stuffed. Ok. 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 Grazie a tutti.